Il Cerignola punta su Giancarlo Malcore per tornare quanto prima al successo e mettere alle spalle qualche pareggio di troppo. Per ultima la beffa nel recupero rimediata contro la Turris. L'attaccante infatti non ha ancora digerito i due punti persi a Liguori. Diciamo che è mancata un pochettino la fortuna e quella cattiveria nel mantenere e volere a tutti i costi un risultato. Domenica sera al Monterisi arriverà il lanciatissimo Picerno per gli Ofantini, una grande occasione per rilanciare le proprie ambizioni. Sappiamo che arriva una squadra forte dove sta passando un ottimo momento di forma, però noi vogliamo conquistare questi benedetti tre punti. Malcore ha ritrovato il feeling con il gol dopo un lungo periodo di digiuno, suo lo zampino decisivo nell'ultima vittoria, quella risalente a tre settimane fa contro il Catania. Il bomber ritrovato però può fare ancora meglio, il peso dell'attacco giallo-blu grava su di lui. Adesso grazie a Dio sto bene fisicamente, mentalmente, quindi non vedo l'ora di dare una grossa mano alla mia squadra. In mattinata il club Ofantino ha presentato l'inedita quarta maglia ufficiale, un insolito completo a tinte rosso-blu con dei bordi gialli e ricchi amari, colori sociali del club. Ad indossarla in via di presentazione è proprio Giancarlo Malcore, figura simbolo della società della famiglia grieco, sempre più abile nel valorizzare ed espandere il brand audace Cerignola.